Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia sono nuove concorrenti del Grande Fratello 18. Le due, che insieme formano in realtà un unico concorrente del reality, sono entrate nella casa durante la puntata di lunedì 2 dicembre. Sono state subito accolte con grande calore degli altri inquilini dell'immobile più spiato d'Italia. La 50enne siciliana e la figlia Neo 18enne è diventata maggiorenne il 21 agosto scorso, si sono presentate con lo stesso modello di vestito, sebbene in due tonalità diverse. Ci vestiamo sempre uguale, ha spiegato la ragazza, che secondo Alfonso Signorini è anche la più giovane concorrente di sempre del reality di Canale 5. Perla Maria si è anche augurata che questa esperienza la possa far uscire dalla gabbia dorata, in cui la tiene il genitore. Mia mamma è sempre iperprotettiva. Non ho mai vissuto con così tanti coinquilini come al Grande Fratello. Sarà anche un modo per distaccarci un poco. Spero che almeno qui non litigheremo, ha aggiunto. Le due, su richiesta del conduttore, si sono anche subito esibite in un balletto di coppia. La Monsè, che ha avuto Perla Maria con il marito Salvatore Paravia, imprenditore nel campo degli ascensori, ha salutato anche le due concorrenti del programma XD, Nonela Rai, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.